musica Raga mi sto sfottutamente divertendo Cazzo Fatemi tagliare E non nel senso che mi taglio Per godere o cose Cioè tagliare nel senso divertire è dialetto romano Non pensate che faccio cose strane Che a volte le faccio cose strane Me sto a divertì porco due Ce li posso avere pure i momenti brain dead Per favore Cavaliere niga Mi sono distratto a leggere il tuo nome cavaliere Questa è colpa tua Cos'è muovisti Bene ragazzi siamo armati Grazie Grazie Tè la pesca Versus Versus tè al limone Allora ragazzi mettiamo Mettiamo in chiara una cosa Se vi piace il tè Se preferite il tè al limone Rispetto a quella la pesca Siete dei figli di satana Manco l'omba Eccola cavaliere niga Cavaliere ninjas Se voi non subate io chiamo il telefono azzurro E vi mando in galera Come la mettiamo? Ma il casco antinfortunistico lo posso trovare? Cazzo sono arrabbiati Cazzo sono arrabbiati Guarda sto poraccio come l'hai fatto magnato Così magnato che dice Che dice Te ha detenato Ma c'ha sapore il te ha detenato Ma poi da fruciata il te ha detenato Ma che dici? Capite questo Ho un fame Server di PUBG ragazzi Ha deciso Devo vincerlo io sto scontro Buono a sapersi Per server Ha deciso Cosa sta accadendo? Te la faccio a streammare PUBG con 1.5 Secondo me Te collassa il PC No scherzo Streammi con Mbank Anche se la qualità è peggiore Non penso che vada tutto bene Legatroz Non penso proprio che stia andando tutto bene Bravo Dato che mi hai sparato Ora guardami Ora guardami Tiè beccate questo Tiè Allora Allora la persona che più ti sei affinzionata non conosciuta Mi diceva nello stream Sono curioso Ma in verità c'è stato un botto Managa Ogigia Il Tiltong Pure Days Anche se sei un figlio No scherzo E Ce ne sono un sacco di persone Ve l'ho detto Siete come la mia famiglia Siete la mia famiglia online Che cuore d'oro Che ha power Ora subate di più Non ho bisogno di guardare per lootare Andare in giro Guardate Che cosa sapete fare Eh Sapete fare Guardatemi Fa memoria il gioco Io posso chiudere gli occhi Muovermi dove Meglio Washer o gone Washer Molto più forte Vabbè vaffanculo Sperate l'antico Poi come funziona Su PUBG Allora c'è uno sniper Che l'ha detto A prendersi Gli sniper Facile Il support Che è colui Che va a supportare Dove serve una mano Se uno deve push I nemici L'ingame leader Prende decisioni E poi il flanker Barra fragger Che è quello di Oh Oh Raiden in gold Dai non l'ho ricaricato Davvero Vabbè Tornale è proprio Una laida No stai bugando la moto veramente non 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 Grazie a tutti. 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 Voglio fare i cancer? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il cazzo mi ha sparato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ammazza. Ammazza che mira al culo. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. C'è... Come... E... 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 Buu... E... Avete presente? E... 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 E...